Il miglior Spider-Man cinematografico? Andrew Garfield. Wabalava dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Marvel, bentornati nella rubrica Retro Movie, per così dire parlo oggi di un film del 2014, quindi non un film vecchissimo, ma giusto per continuare il filone di tutti i film di Spider-Man di cui ho parlato in questo periodo, anche in vista dell'arrivo di Spider-Man No Way Home, che probabilmente mostrerà tutte le precedenti incarnazioni dell'Uomo Ragno. Oggi parliamo di The Amazing Spider-Man 2 del 2014 con Andrew Garfield, sempre Emma Stone e Jamie Foxx nel ruolo di Electro, da cui il sottotitolo The Amazing Spider-Man 2, il potere di Electro. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che ve frega di condividere il video con tutte le persone che amano questa incarnazione di Spider-Man e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo film, quando è l'ultima volta che lo avete visto e se avete intenzione di rivederlo prima di No Way Home, vi ricordo sempre che qua sotto in descrizione trovate anche i link a tutti gli altri miei social a cui potete iscrivermi per seguirmi anche di là. Questo film purtroppo ha una lotta interna, nel senso che da un certo punto di vista vuole tenere il filone come lo aveva iniziato, ovvero con Peter che vuole esplorare cosa c'è dietro alla scomparsa dei suoi genitori e da un certo punto di vista invece vuole distanziarsi molto dal precedente film per andare un po' più verso una versione un po' più alla Spider-Man di Raimi soprattutto la versione in cui era molto più popolare, quindi nel terzo episodio dello Spider-Man di Raimi abbandonando un po' quel sapore di vigilante urbano che ci aveva dato il primo film e questo è un vero peccato. Abbiamo come sempre il prologo con i genitori che lasciano Peter agli zii lo avevamo già visto nel primo film, qua lo vediamo da un altro punto di vista lo vediamo dal punto di vista proprio dei genitori che si assentano dalla vita del figlio Peter per andare non si sa dove prendono un aereo, esattamente come nei fumetti muoiono per un incidente aereo però appunto c'è sotto qualcosa, esattamente come nei fumetti c'era sotto qualcosa qua Richard e Mary Parker, i genitori di Peter, sono degli scienziati esattamente come nella versione Ultimate del fumetto quindi non sono degli agenti governativi, non sono della CIA, non sono dello SHIELD ma sono degli scienziati come nel fumetto ma c'è anche di mezzo un'accusa anche qua di spionaggio industriale, di tradimento esattamente come erano infangati i genitori di Peter nella linea classica di Spider-Man cosa che poi appunto è stata smentita da Peter stesso grazie al suo ritrovamento di prove a favore dei propri genitori quindi questa cosa mi è piaciuta davvero molto che abbiano preso a piene mani molte cose dei fumetti questa però sotto trama dei genitori si sente molto meno che nel primo film e devo dire a me non frega nulla nel senso che quello che ho visto nel secondo film è stato sufficiente, non ho questa curiosità per questa sotto trama però è evidente che hanno cambiato idea è evidente che hanno voluto dargli un tono un po' più leggero lo trattano ma diciamo che quasi lo smorzano e lo concludono qua in questo capitolo quasi come se sapessero, avessero saputo che questo sarebbe stato l'ultimo dei due episodi della saga nonostante ne avessero in produzione, in mente quantomeno ne avessero in mente quattro se ci fate caso dopo il prologo dei genitori c'è la intro una delle intro più spettacolari dell'arrampicamuri forse la più bella in cui lui si getta nel vuoto per poi svolazzare tra le ragnatele e appunto fare una specie di intro alla Spider-Man 3 di Sam Raimi dove tutti lo amano, tutti lo applaudono una cosa molto insolita dato che quando lo avevamo lasciato nel 2012 era semplicemente l'eroe di suo zio Ben e c'era qualche fan, sì c'era Flash Thompson c'era qualcuno che faceva dei graffiti con il suo logo ma da qui alla popolarità che ha guadagnato in questo film non si è visto cosa è successo sarebbe stato carino vedere una sorta di crescita del vigilante per diventare supereroe invece qua è già supereroe fa niente, è un peccato, un'occasione persa ma fa niente ma dicevo è una delle intro più belle di Spider-Man perché incarnano perfettamente l'umorismo del personaggio lontano dallo Spider-Man di Raimi super silenzioso con una battuta ogni 10 minuti è davvero davvero kitsch e lontano dallo Spider-Man di Tom Holland molto chiaccherone ma dove non c'è una vera e propria battuta ma una sorta di chiacchiera per gestire l'ansia che è esattamente come Peter gestisce il suo, per carità il suo nervosismo quando combatti i nemici ma lo gestisce con delle battute esattamente come fa in questo film non certo con un continuo parlare a vanvera se ci fate caso prima che inizi questa intro e subito dopo il prologo c'è un rintocco di orologio fateci caso tutto il film è scandito dal senso del tempo il tempo che ha un inizio e che ha una fine perché questo film parla delle cose che finiscono parla del tempo che non è eterno il tempo che abbiamo a disposizione non è eterno ma ha una fine ed è proprio perché ha una fine che rende così straordinaria l'avventura nostra su questa terra che è la vita esattamente come dice anche Gwen Stacy nel suo discorso di diploma il costume di questo Spider-Man è il più bello visto finora forse perché è quello che ha gli occhi più grandi più espressivi finora visti esattamente come ci avevano abituato gli ultimi fumetti e i fumetti Ultimate peccato che non c'è una vera spiegazione per la quale abbia cambiato il costume a livello narrativo a livello esterno sappiamo che molti fan si sono lamentati che il costume precedente sembrava un pallone da basket e allora sono tornati a questo costume però ecco questo già dimostra la paura che ha la Sony del fandom come cambia decisioni per accontentare i fan e non sempre questa è un'idea che ripaga tant'è che lo abbiamo visto anche succedere in altre occasioni quando sbaglia la Sony sbaglia forte ma vabbè lasciamo perdere questo costume è cambiato e c'era anche qualche scena che poi hanno tagliato che mostravano come Gwen gli avesse suggerito di fare degli occhi più grandi eccetera peccato non l'hanno inserito perché nel primo film questo percorso alla Batman Begins ce l'avevano mostrato sarebbe stato bello avrebbe dato continuità alla saga se anche qui ci avessero mostrato una sorta di costume che sarebbe appunto cambiato per qualche motivo ma fa niente va bene perché comunque il costume è fantastico sempre senza spiegazioni vediamo anche che Gwen e Peter si frequentano di nuovo nonostante alla fine del primo film Peter avesse promesso al padre morente di Gwen stessi che non l'avrebbe coinvolta nella sua vita proprio perché il suo ruolo di Spider-Man avrebbe potuto causare a Gwen delle diciamo delle ripercussioni avrebbe potuto mettere in pericolo Gwen con il suo mestiere di Spider-Man poi invece vediamo che questa cosa non succede ma in realtà è una scelta del regista di come dire evitarci uno spiegone e farci vedere che all'inizio lui la bacia sembra che si frequentano ma poi cambia idea è come un piccolo riassunto di quello che è successo nel finale del primo film senza fare in modo che il film inizi in modo triste cioè con lui che è triste perché non sta con Gwen anche perché ragazzi altrimenti il film sarebbe iniziato in un modo triste e finito in un modo ancora più triste quindi preferisco che abbiano preso questa direzione il discorso di Gwen Stacy alla cerimonia dei diplomi che viene visto all'inizio solo in forma ridotta e poi nel finale come discorso esteso anche per richiamare il finale il discorso finale del primo film che era di Zio Ben nella segreteria telefonica qui abbiamo un altro discorso finale della persona morente ovviamente che è di Gwen Stacy anche questo è un discorso registrato quindi c'è questo richiamo ed è davvero uno dei discorsi più belli che abbiano fatto ed era stato improvvisato dalla stessa Emma Stone che è straordinaria ovviamente che cacchio ce lo stiamo dicendo a fare e qua viene anche esplorato il fattore non posso stare con la donna che amo perché la metto in pericolo ma non come abbiamo visto nella saga di Sam Raimi in cui Peter fa da solo questo discorso non coinvolge Mary Jane e quando la coinvolge ovviamente Mary Jane gli dice no decido io qua vediamo invece tutto questo percorso decisionale fatto insieme dalla coppia Gwen e Peter ed è un modo molto interessante un modo nuovo per gestire questo discorso che comunque è una cosa che abbiamo già visto ma almeno ce lo ripropongono in un'altra salsa c'è anche una scena chiamiamola quasi una scena musicale è un mix di scene che ci ricorda molto il mix di scene iniziali in cui presentavano Spider-Man da parte delle persone intervistate di New York come è successo nel film di Sam Raimi qua in un'altra salsa qui si vede che comunque vogliono richiamare quel tono un po' più allegro che c'era nei film di Sam Raimi che va bene ci mettono comunque del loro cioè mentre il pubblico parla di Spider-Man noi Spider-Man non lo vediamo svolazzare qua e là come nel primo film ma vediamo Peter che era in casa ogni volta più sfatto ogni volta più stanco ogni volta più sporco quindi vediamo il lato supereroe descritto dai passanti di New York e il lato umano di un Peter sempre più distrutto sempre più malato lo vediamo anche come lo abbiamo visto finalmente nei fumetti è la prima volta che vediamo uno Spider-Man in costume con la sciarpa la berretta perché ha il raffreddore sono stronzate ma sono quelle piccole cose che hanno reso grandi Spider-Man nel finale di questa scena vediamo anche per la prima credo anche unica volta uno Spider-Man che protegge un bambino da dei bulletti di quartiere semplicemente parandosi in mezzo a loro e con la sua figura imponente per i bambini li fa scappare anche questa è una scena molto piccola ma piena di significato richiama un po' il salvataggio del bambino del primo film qua ovviamente è in salsa molto più soft ma molto più significativa perché un bambino può provare molto più facilmente l'esperienza del bullismo che non quella di cadere da un'auto in fiamme da un ponte quindi capite cosa voglio dire è mi piace che abbiano usato la figura di Spider-Man come persona che si erge contro i bulli è una cosa molto bella che poi viene ripresa anche nel finale questo personaggio del bambino quindi c'è anche questa continuità che mi è piaciuta molto parliamo un attimo del villain principale di questa pellicola Electro il potere di Electro tutta la trama di questo villain è basata su un gioco di parole americano inglese sul fatto che power significa sia potere che elettricità e fanno proprio vedere come questo personaggio Max Dillon nell'incarnazione in questa incarnazione cinematografica sia fondamentalmente un loser uno sfigato un invisibile una persona priva di potere un invisibile della società che mano a mano lo acquisisce e lo gestisce nel modo più devastante possibile proprio per per una rivalsa verso la società che lo ha sempre ignorato è una cosa molto interessante ma davvero il personaggio di Electro è molto più semplice nei fumetti non ha tutti questi livelli è semplicemente lo hanno chiamato anche il criminale del popolo ha un altro tipo di carattere che francamente avrei preferito vedere e qua abbiamo un personaggio liberamente ispirato a Electro che francamente ruba fin troppo minutaggio alla pellicola sappiamo che abbiamo dovuto che hanno dovuto tagliare tanto in questo film e francamente avrei preferito vedere un Electro per meno minuti avrei preferito vedere MJ per esempio che c'era in questo film ma l'hanno tagliata o avrei preferito vedere magari il rapporto tra Harry e Peter più approfondito e meno Electro perché per quanto abbiano cercato di dargli uno spessore resta comunque macchiettistico ma lo vediamo per più tempo quindi francamente ne avrei fatto meno è comunque interessante il fatto che ci sia questa metafora il fatto che lui quando era normale invisibile agli occhi di tutti era triste perché nessuno lo guardava nel momento in cui diventa un freak nel momento in cui diventa un mostro e va a Times Square e tutti lo inquadrano lui non si spaventa del suo aspetto lui è contento che sia su tutti gli schermi e il momento in cui gli parte la brocca in cui inizia a smettere di adorare Spider-Man e inizia a odiarlo è il momento in cui da questi maxi schermi di Times Square viene tolta l'immagine di Electro e viene messa quella di Spider-Man e lui perde la brocca se ci fate caso è tutto basato sul fatto che lui vuole attenzioni e non vuole che la città le dia a Spider-Man voi dite sono motivazioni basse sono motivazioni banali beh comunque non è un personaggio che abbia chissà quale profondità e lo stiamo vedendo tutti i giorni nei telegiornali che è pieno di persone che non hanno assolutamente profondità e fanno le cose che fanno per i motivi più stupidi quindi non è che tutti i cattivi devono essere per forza devono avere per forza delle motivazioni super profonde anzi va benissimo così parlando di altri cattivi parliamo un attimo di Harry Osborn allora l'attore che interpreta Harry Osborn in questo film mi viene il nome Dean non mi ricordo il cognome perdonatemi interpreta al meglio un ventenne un pischello che ha ereditato la società del padre a differenza di James Franco che è bravissimo io l'avrei visto come Spider-Man da quanto è bravo però era visibilmente più adulto invece qua ha proprio la faccia da pischello che eredita un'azienda del padre morente e fa il grande ma non avendone l'esperienza qua questa cosa si percepisce molto meglio grazie al fisico dell'attore nuovo ovviamente però purtroppo in questo film si nota proprio un'accelerata improvvisa verso il finale come se avessero saputo fin da subito che questo film sarebbe destinato a concludersi con questo episodio è un vero peccato perché appunto hanno introdotto Harry subito nel secondo film ma come se fosse un amico di infanzia ritrovato dopo tanto tempo questo per a livello narrativo per sancire meglio l'amicizia tra Peter e Harry che altrimenti non avrebbe avuto senso ma francamente io mi aspettavo dal momento che andavano al college di vedere finalmente la gang del coffee bean di vedere Harry Osborn che diventava amico di Peter in questa occasione che si formava la gang con Peter Harry Gwen che stava al college qua e Mary Jane che poteva essere un'altra compagna di college oltre che la vicina di Peter e magari avremmo potuto rivedere anche quel fantastico Flash Thompson che tanto è stato utilizzato nel primo film tanto nel senso che ha due o tre scene molto importanti che danno davvero rispetto al personaggio dei fumetti e qui avremmo potuto vederlo più approfondito invece l'hanno tolto totalmente ovviamente non parlo di Rhino perché è chiaramente una comparsa sia all'inizio che alla fine per chiudere per fare da cornice al film l'avremmo magari visto in modo più approfondito nei prossimi film ma non ne parlo nemmeno è proprio un figurante come personaggio interpretato da un attore della Madonna tra l'altro però appunto purtroppo non ce lo godiamo non so se ce lo goderemo in No Way Home però appunto è stata proprio una comparsata parlando invece di protagonisti le scene la chimica che c'è tra Gwen e Peter è davvero palpabile è fantastica non per niente poi loro sono stati anche insieme non so se dopo il secondo film o tra il primo e il secondo film comunque era percepibile che i loro dialoghi erano genuini è una gioia per gli occhi vederli insieme tutte le volte Emma Stone è una gioia per gli occhi e non perché sia bellissima non è solo perché è bellissima ma proprio perché trasmette il carattere della Gwen che sta interpretando ha proprio negli occhi vedi questa gioia questo guizzo anche un po' di presa in giro del proprio fidanzato si vede che è una coppia reale questo è tangibilissimo nella pellicola ed ha un valore aggiunto rispetto al rapporto che c'era tra Peter e Mary Jane ma perché è stato semplicemente un rapporto di simp per tutti i tre per tutti e due i film fino alla fine del secondo film e poi nel tre vediamo i problemi di coppia non vediamo mai questa intesa che invece loro due hanno la scena slapstick dove Peter finge di essere imbranato per far guadagnare tempo a Gwen che scappa dalle guardie della Oscorp fa morire da ridere è anche un fantastico utilizzo dei poteri dell'uomo ragno per una gag di questo tipo un'altra cosa che non avevamo visto prima e che sono stato molto felice di vedere adesso e che ci sta proprio bene in un film del genere mentre Zia May di cui forse ho parlato poco o niente nell'altro video sul primo film Zia May rispetto a Rosemary Harris questa Zia May è molto più terra terra nel senso che non è la Zia tenerona che ti fa proprio da Zia che ti coccola che ti dice delle frasi molto sagge come ti potrebbe dire una nonnina questa Zia è una mamma una mamma che ti dice come fare la lavanderia come non farla si incazza si arrabbia se gli parli dei genitori che mancano da una vita e non ti rendi conto di quanto lei sia una mamma nei tuoi confronti è una Zia più reale dai suoi comportamenti si percepisce tutto l'amore che potrebbe avere la madre per il proprio figlio come dicevo il tema del tempo percorre tutto il film se ci fate molto caso sentirete dei rintocchi lo sentite all'inizio ne sentite uno all'incirca verso metà e lo sentite anche alla fine ovviamente proprio perché ci sarà la scena in cui ci sarà presente la morte di Gwen Stacy non dal ponte di Queensborough se non ricordo male nei fumetti era da lì ma da una una sorta di campanile fondamentalmente quindi anche qua dove ci sono tutti gli ingranaggi dell'orologio c'è tutto un voluto richiamo al tempo che se ne va al tempo che se ne va via infatti l'orologio viene distrutto in questa collutazione in questa in questo chiamiamolo incidente che poi ha dato purtroppo origine alla morte di Gwen Stacy Emma Stone è stata una Gwen così fantastica che vederla morire ci ha spezzato davvero il cuore ci ha spezzato il cuore come negli anni 70 ha spezzato il cuore ai lettori di Spider-Man anche se lo sapevamo che il destino di Gwen sarebbe stato questo ci ha fatto davvero male e non vorrei dire una stronzata ma ne sono abbastanza sicuro che il motivo per cui questo film non abbia fatto non abbia avuto il successo meritato è proprio perché i fan sono rimasti molto arrabbiati fan che non conoscevano la storia di Gwen Stacy ovviamente sono rimasti molto arrabbiati dalla morte di Gwen Stacy non mi dite che è per colpa della qualità del film di che cazzo stiamo parlando ma avete visto quanto è incassato Venom che è una merda avete visto quanto sta incassando Venom 2 quindi non mi dite che è la qualità del film che non ha fatto decollare questo Spider-Man che quello di Remi era più bello che The Amazing Spider-Man 1 era più bello del 2 ok ma non è quello il fatto è che i fan si sono indignati Gwen è morto hanno fatto morire Gwen hanno fatto il passaparola e questo film si è fermato questo è perché se dobbiamo davvero parlare di qualità non c'è comunque paragone con delle merdate che ci stanno proponendo tuttora questo film è comunque amazing fidatevi di me parliamo un secondino di colonna sonora la colonna sonora è leggermente cambiata dal primo film è un pochino più pomposa c'è un po' più di orchestra senza arrivare a essere questa colonna sonora fenomenale di Sam Remi che dava proprio molto più potere a Spider-Man è comunque sottile ma un po' più pomposa e non saprei davvero quale scegliere tra le due è un mix delle due colonne sonore a me ricorda molto anche il videogioco di Marvel Spider-Man io credo anche che se non ci fossero stati questi due film con Andrew Garfield Marvel Spider-Man della Sony non sarebbe stato così bello sia per alcune evoluzioni che fa Spider-Man nel videogioco sia proprio per la colonna sonora del videogioco che è molto ispirata alla colonna sonora di questi due film per quanto riguarda invece le canzoni che vi metto sempre sotto in descrizione ricordatevi che Jamie Fox per ogni suo film fa sempre una canzone e ve la metto qui sotto e mentre solo per noi in Italia c'è stata la canzone Amazing di Francesca Michelin che se avete avuto la fortuna di vedere questo film al cinema è nei titoli di coda se invece avete il DVD o il Blu-ray non trovate questa canzone perché c'è la canzone originale di Alicia Keys se non sbaglio We Go Again qualcosa del genere che a me non piace fondamentalmente io preferisco molto di gran lunga la canzone il videoclip della Michelin che vi metto qua sotto in descrizione la sigla di Spider-Man degli anni 70 60 che dir si voglia la sentiamo come suoneria del cellulare di Peter in questa occasione e Peter la fischietta all'inizio quando si scontra con Rhino mentre se ci fate caso quando Max Dillon quando Electro suona i piloni della centrale elettrica e Spider-Man dice odio questa canzone la canzone non è altro che il piccolo ragnetto saliva sempre su poi venne la pioggia e lo fece cadere giù qualcosa del genere adesso non so le parole esatte che è la canzone del ragno che cantano i bambini inglesi e americani e che è la stessa canzone che il Green Goblin aveva cantato Spider-Man nel primo film bene grazie per essere stati ancora fino alla fine in questi miei interminabili video in cui parlo dell'uomo ragno ma ci tenevo davvero tanto devo dire che rivedere questo film per me è stata più dura di quello che pensavo mi sono commosso più di una volta è stato molto faticoso è stato emotivamente provante per me rivederlo ma sono stato felice per poterne parlare insieme a voi io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti